Non credo che qualcuno pensi che domani lo schieramento politico-istituzionale possa allargarsi a favore del conflitto, non credo, ma invece possono aumentare le connessioni tra i diversi reparti del conflitto sociale. E io credo che, adesso per stare sull'ultima cosa che diceva Roberto, proprio queste due questioni, cioè una è il salario minimo e l'altra la condizione dei rider dalla condizione contrattuale di dipendenti fino alla contrattazione dell'algoritmo, cioè appunto la nuova frontiera, è secondo me un terreno di lotta politica di oggi. Ecco, è quello che secondo me bisognerebbe fare oggi.